Ciao ragazzi, io sono Bluefire, voi siete nella Bluefire TV e siete mille! Ragazzi, siamo mille! Grandioso! Epico! Vi ringrazio tantissimo, è un risultato incredibile! Anche perché sono riuscito a arrivare a mille in solo tre mesi o qualcosa del genere Comunque ragazzi, oggi vi presento un nuovo video che lo attendevano in molti in realtà Io ragazzi non ho mai pensato di fare quelle cose tipo scritte con i cubi di Minecraft o cose simili Perché, tipo, a parte che non so scrivere quei cubi e quindi sarebbero venute delle cose tipo, boh, non lo so, dei cerchi Tipo i cerchi nel grano Comunque, possiamo parlare dello sponsor che è per tutti quelli che hanno meno di 200 iscritti Non è un video, ragazzi, non è... ascoltate bene, non è un video iscritto ricambi, non è un video sub for sub Andate in quei video lì se volete quel tipo di iscritti Questo qui è un video sponsor, come funziona? Allora, parliamone subito Abbiamo l'eliminazione dei video in risposta, ragazzi È stato l'aggiornamento più recente di YouTube E... sì, ragazzi, io ho pensato di basare questo sponsor sui video in risposta Poi cos'è successo? Mi sono informato sul fatto che sono stati tolti E perché sono stati tolti? Perché, ragazzi, quattro persone su un milione guardavano i video in risposta È incredibile E non so, allora ho detto Ma è inutile allora basare uno sponsor su dei video in risposta Quando invece forse sarebbe più utile basare uno sponsor sui commenti Perché sui commenti? Perché anche i commenti in futuro, come ho letto sul fatto di come penserà YouTube stesso di modificare le cose Che metterà della possibilità di inserire i video in futuro nei commenti Dunque, allora ho detto Cominciamo con questo video sponsor ad abituare molti a usare i commenti Cosa che non è molto patta per ore Quindi io ho pensato di gestire il canale così Ho levato anche la sezione discussione così che proprio ci fosse più visibilità ai commenti Dunque, in questo sponsor si può Dovete appunto creare un commento in cui descrivete il vostro canale Ma ragazzi, lo so che ci sono milioni di modi in cui scrivere i commenti Potete mettere le faccine, potete mettere, non lo so, 200.000 cose Ma io vi chiedo di descrivere bene il vostro canale con qualcosa di utile Che può essere utile a voi e a chi guarda Ossia, se cercate compagni per una serie, potete scriverlo Se avete bisogno di un designer, lo potete scrivere Se cercate uno che vi faccia un logo, un background, una intro, potete scriverlo E sì, parteciperanno a questo sponsor, io credo, anche qualche designer Quindi potete, senza stressarli ovviamente ragazzi, piano piano Contattare tutti Potete mettervi d'accordo per fare serie, per cercare dei server Per cercare, non so, se volete tirar su una discussione Ecco, questo è il posto adatto per farlo Se volete litigare No, ragazzi, tutto tranne litigare Ghi haters, mandiamoli altrove Comunque, abbiamo Come funziona allora Perché mettere dei commenti qui sarebbe utile per sponsorizzarvi Perché? Innanzitutto, i video vanno condivisi Io vi consiglio, innanzitutto, di mettere i video nei vostri preferiti Perché mettendoli tutti nei preferiti Tutti i partecipanti dello sponsor Voi sapete che un video che finisce in mille preferiti Di mille persone Ha una visibilità enorme Cioè, come fosse il video di uno dei grandi di YouTube E quindi, cioè, ho pensato che questa potrebbe essere una buona idea In più, vi consiglio di condividerlo ovunque Sui social network, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Non so, ovunque Su Yahoo, Handsware, su Google Google+, quelli, chiamateli come volete Tutti quanti i social network E dovunque ci sia appunto tanta persone che può guardare questo video E quindi, sì Io spero in un grande traffico sotto questo video Poi vorrei dire Il precedente sponsor era in dettaglio Io, sì, continuerò anche quel tipo di sponsor Ma, ragazzi, io considero solo quei canali Che mi avranno fatto una richiesta pubblica Appunto nei commenti E non nei messaggi privati Oppure, sceglierò chi mi sta simpatico E comunque avrò voglia di sponsorizzare E comunque, comunque, ragazzi Io seleziono tutti i commenti Perché? Perché, ragazzi Perché ho 100 pagine di messaggi Da quando sono entrato su YouTube Io, ragazzi, ho 100 pagine di messaggi I 20 prevede sono 2000 messaggi È una cosa incredibile, ingestibile E quindi, ragazzi Quello che riuscirò a guardare sotto i commenti dei video Riuscirò, appunto, a fare il possibile Per sponsorizzare chi merita Poi, potete trovare tanti amici Quindi, ragazzi, consiglio Soprattutto perché appena è iniziato Che vuole aprire un canale Di fare amicizia, ragazzi Questo sponsor è per fare amicizia tra di voi Per conoscere gente, appunto Anche perché chi è nuovo sul mondo di YouTube Non sa come orientarsi Anch'io, come sono entrato Non è che mi hanno spiegato Quindi, io penso che Chiunque possa scrivere Sponsorizza il canale su YouTube Oppure pubblicizza il tuo canale Si trovi questo video E quindi abbia, appunto, una possibilità Di fare amicizia con tanta gente Se non vi piace l'iniziativa Ragazzi, non mi lasciate un non mi piace Perché è dannoso per i partecipanti Ma ditemi nei commenti perché Invito inoltre i partecipanti A rispondere alle domande presenti nei commenti Così che tutti abbiano una possibilità Di ottenere una risposta In questo modo anche vi conoscete Ragazzi, sì Mettete un mi piace Perché? Perché è utile per tutti, appunto Sì, è utile anche a me Perché il video finisce in evidenza Però, ragazzi, una cosa del genere Non l'ha fatta nessuno Se non ci aiutiamo noi Che, cioè, voi più che altro Che avete meno di 200 iscritti Perché questo video è per voi Non per me Io ho più di 1000 iscritti Quindi io non utilizzerò la sezione dei commenti E, sì Quindi, questo video è per voi Io spero che possa essere utile a tutti voi Io saluto in video Io saluto in video, ho detto bene I primi tre I primi tre Che mi commentano sotto ogni video Nel senso Cioè, non che mi commentano Che mi chiedono di essere salutati sotto i video Ma solo i primi tre, ragazzi Non di più Quindi è inutile che poi continuate a chiedermi E mi saluti, mi saluti, mi saluti Finché non diventa impossibile Poi, siccome ho già online tanti video privati E perché sicuro in futuro avrò un sacco di impegni Durante l'estate mi sono dato da fare per farli Non usciranno subito i video con i saluti, appunto E quindi ci saranno, ma in futuro Poi, chi ha più di 200 iscritti Può fare domande per la community Di me la mangio Ragazzi, me la mangio Sponsorizzata dai grandi, eccetera, eccetera, eccetera Sì, non lo ripeto più C'è l'altro video Ve lo linko qua Voilà In mezzo al video Poi, non nascono community da tanto E quindi abbiamo scelto i migliori elementi O li stiamo scegliendo Ruoteranno, non ruoteranno, non lo so Scoprirete guardando altri video O quell'altro video Comunque, per chi voleste migliorare il proprio canale Invece, e volesse dei consigli Per lo più da me Perché molta gente anche me lo sta chiedendo Io sono disponibile a parlarne su Skype Però, solo se sono disponibile Ovvero, se vedete il simbolino verde Invece, se sono occupato o assente O invisibile Ragazzi, non posso Perché o sto registrando O sto chiacchierando O sto facendo amicizia Quindi, non posso dare molti consigli Magari sì, magari no Però, ragazzi Contattatemi prevalentemente Se mi vedete verde su Skype Poi, ragazzi Poi, non guarderò Guarderò pochissimi messaggi privati E' una decisione che ho preso così Perché appunto le cose su YouTube sono cambiate E quindi Non riuscirò neanche a guardare moltissimi messaggi privati Quindi vi consiglio di lasciarmi i commenti Più, se volete chiedermi qualcosa O chiedetemelo su Facebook Io tengo sempre un occhio E... Tengo un occhio il più possibile Poi, vorrei ringraziare Specialmente in questo video Soprattutto I miei due designer Che li metto in descrizione E... Il primo Quello che mi ha fatto la fanpage Cioè... La fanpage Che mi ha fatto E... La copertina e il logo E... Per i primi iscritti E il secondo E quello che è attuale E... Il mio logo attuale È la mia copertina attuale Ragazzi Grazie infinite Ma a tutti Perché siamo in mille E siete tutti Siete delle persone splendide Perché su YouTube Io ho cercato di Amicizia con i migliori Con i più simpatici E la community è piena di elementi simpatici Spero di aver detto tutto E... Ragazzi Sì Ok Piano con la spam Che poi non riuscirò più a gestire niente Bella ragazzi Da Blue Fire È tutto E... Bye bye Ricordatevi che siete nella Blue Fire TV